Altro giro, altra corsa. Nella sesta giornata del campionato di Serie D il Prato è atteso dalla trasferta sul campo della Massese. Due squadre, quella bianca azzurra e quella bianconera, che sono partite in ritardo nella costruzione della rosa rispetto agli avversari. Come noi vogliono fare bene anche loro, hanno preso giolatori importanti, Roma comunque viene dalla Serie C, come centrocampista, Cruciani, come la Punta Parker, comunque 4-5 giolatori dell'anno scorso lì ci sono rimasti, come allenatore che ha una garanzia per la categoria, che è l'italiano Bonuccelli e quindi sarà una partita, credo, armi pari domenica perché anche loro sono partiti un pochettino in ritardo rispetto a noi, come noi, e quindi credo che poi anche a livello atletico siano due squadre ancora su un sottoritmo. Il Prato parte alla ricerca della prima vittoria in campionato per cominciare a risalire la china. È giunto il momento del salto di qualità. È stata fatta una buona squadra, a mio avviso, e noi ai nuovi arrivati siamo tutti ragazzi grandi, stiamo cercando di portare entusiasmo, voglia e esperienze in questa squadra e sicuramente andremo a massa dove ci aspetta una partita difficile, ma stiamo prendendo via e credo che diremo la nostra. Per quanto riguarda la formazione antimassese, il tecnico Simone Settesoldi dovrà rinunciare a Shannamè, Marini e Reggiani infortunati, mentre in forte dubbio il centrocampista Quinto. Se poi fondamentalmente saranno sempre i soliti due o tre dubbi, non è che ce ne sia tantissimi, quindi vediamo chi sta bene e chi mi dà certe garanzie per affrontare questa partita. È una partita particolare perché comunque loro sono una delle poche squadre di giorno con questo 3-4-2-1 e quindi fanno il campo in maniera diversa rispetto agli altri, quindi bisogna essere bravi a non farci prendere in quelle che possano essere loro giocate e soprattutto sfruttare quello che ci lasceranno, che potrebbe essere importante. Io credo che hanno fatto, sia il presidente che il direttore e il ministro, hanno fatto una rossa competitiva e siamo insieme da poco tempo, quindi ci vuole un attimo per amalgamarsi, per cercare di trovare l'equilibrio di una squadra, però per parlare di vittoria di campionato adesso partiamo con i piedi per terra, però secondo me possiamo toglierci soddisfazioni molto importanti.